Recensione lampo, router da interno di categoria 6, MIMO 4x4, 4 antenne, connetto RISMA, dual sim con meccanismi di failover anche con la porta Ethernet Gigabit, selezione delle bande native e diciamo anche il cell lock, prestazioni altalenanti, ottima stabilità, un router che mi convince per alcuni versi, per altri no. Buongiorno a tutti, oggi proviamo questo QD categoria 6, è un router MIMO 4x4 con 4 antenne esterne dedicate solo al 4G più altre due per il Wi-Fi. Avevamo già provato un QD in passato esterno ma non mi era affatto piaciuto per diversi motivi, ho voluto riprovare un router comunque di categoria medio-bassa anche perché il più delle volte insomma la banda che fornisce anche un 4G, che ne so ad esempio con una banda 3 più una banda 7 aggregata, è più che sufficiente per la maggior parte delle famiglie. È giusto anche esplorare questa fascia di mercato un pochettino più bassa. Andiamo a vedere innanzitutto sulla sua pagina del produttore e vediamo che supporta, come vedete, ha un modem di categoria 6, Wi-Fi 5, supporta la rete Mesh, ha diversi interessanti VPN client e server dentro, ha la gestione di due SIM, nano SIM, oppure può anche switchare tra l'uno e l'altro in caso di problemi con la One e la SIM, cioè il cavo di rete, magari voi avete la vostra connessione, però volete comunque in caso di problemi avere lo switch automatico su un operatore mobile. Poi sarà interessante anche questo sistema. Qua vi fa vedere cosa significa categoria 6, quindi che ha due flussi praticamente da due bande diverse e va bene, ed è MIMO 4x4, quindi si robustisce e si potenzia la trasmissione. Vediamo, non dice molto altro, sì, questa cosa è molto interessante, il fatto che abbia i connettori SMA che sono molto robusti, al contrario a degli altri TS9. alla selezione delle bande, si possono impostare TTL, anche questo è molto interessante proprio per la fascia del router, perché magari troviamo delle SIM a bassissimo costo, che magari non danno prestazioni esaltanti, però a volte vengono bloccati dall'operatore, fanno in modo tale che siano utilizzate solo da cellulare e non da router, e più delle volte il controllo viene semplicemente fatto a livello di TTL, e quindi con questo potete fare anche qualche barbatrucco, la QD app, ma questa proprio non l'ho guardata, non mi interessano le app per smartphone, perché deve avere un'interfaccia web e basta. Andiamo quindi subito a vedere il nostro unboxing dei poveri, così vediamo subito il router. Ecco qua il router, tra l'altro volevo dirvi che ho comprato questo router in un momento in cui il prezzo era abbastanza buono, utilizzando il mio nonno bot, che è un tracker dei prezzi, che funziona con Telegram, vi lascio poi il link anche al video che vi spiega tutto, come utilizzarlo, quindi una mattina mi sono svegliato, mi ho detto guarda che il QDLT700 è calato di prezzo, e l'ho preso in quel momento, quindi vi consiglio di usare nonno bot, nel frattempo supportate anche il canale a costo zero, perché sono un affiliato a Amazon. Va bene, andiamo avanti, allora abbiamo le nostre quattro belle antennine, con connetto Risma, ma lo vediamo poi dal vivo, qua va bene la scatola, con tutte le caratteristiche, bla 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 bla, qua è come si presenta, con la dotazione solita, tutta la scarica di antenne che ha, perché ne ha veramente tante, poi va bene le istruzioni che ne sono legge, un alimentatorino piccino, devo dire, finalmente un bel alimentatore proprio microscopico, ma ci sta, perché comunque non deve consumare molto, la pellicolina, non ve lo mostro effettivamente come è, perché non ho voglia di togliere la pellicola, perché poi ovviamente questo router non lo tengo, lo rivenderò, quindi preferisco tenerlo in tonso, ok, quindi andiamo avanti, qua le porte gigabit, un pulsante fisico di accensione, il connettore di alimentazione, tutto molto standard, le due nano SIM affiancate, con il solito meccanismo a molla, tutto bene direi, perfetto, e qua le informazioni solite per entrare sotto un router, cosa devo dire, innanzitutto del router, dello chassis, lo dico subito, non mi piace, è veramente un prodotto esteticamente bruttino, è proprio un plasticone, intendiamoci, anche gli altri router, più delle volte sono fatti di plastica, ma questa è proprio una plastica, secondo me, di bassa qualità, con un brutto design, e tutto va bene, non è che stiamo a guardare, il design del router, l'importante è che funzioni bene, questa è la cosa fondamentale, però, se pensate di mettere lì un bel oggetto, no, ecco, ci sono router sicuramente più bellini di questo, è un po' grezzo, la plastica è un po' di qualità discutibile, ovviamente è la mia opinione questa, vi ho detto che ha dentro un modem di categoria 6, e ha in effetti questo Quectel, e niente da dire, diciamo che al giorno d'oggi è un po' antico, comunque vabbè, vedete quali sono tutte le bande supportate, e va bene, magari vedo di allegarvelo nel sito, questo pdf, così potete consultarlo in modo preciso preciso, vediamo che funzioni offre, questo, possiamo entrare, dire con la lingua che vogliamo, c'è anche l'italiano, qua sotto ci sono altre lingue, ma lasciamo perdere, diciamo che andiamo di italiano, facciamo login, anche se le traduzioni sono sempre quelle che sono, io normalmente vado d'inglese, però ho deciso di farlo in italiano a questo momento, allora, abbiamo qua un pannello dove ci sono tutti i dettagli, bellino, devo dire, niente da dire, sul wifi non dico più di tanto, perché sapete che mi interessa poco nulla, il wifi, qua abbiamo i dettagli della nostra connessione, ci dice quali bande sta aggregando, ne può aggregare solo due, quindi vedete la primaria e la secondaria, ci dà l'ID di cella, da questo ID di cella, vi faccio vedere come si fa, prendete una bella calcolatrice, ok, qua avevo già fatto il conto, se voi prendete questo, ok, e lo incollate nella calcolatrice, ok, la postetela, puoi metterli anche in decimale, attenzione che questo è un valore esadecimale, lo dividete per 256 e ottenete questo numero, con questo numero avete il numero di BTS della vostra connessione, sapete esattamente a quale BTS siete collegati, lasciamolo lì, dopo ve lo faccio vedere direttamente su mappa, anzi no, ve lo mostro subito, già che siamo qui, voi sapete che io faccio le mie prove sempre in questo paese dove abito, nel basso salento, quindi la 43 22 59 è questa, ok, io sono a circa 800 metri di distanza, e quindi come vedete il router vi dice esattamente a quale cella si sta collegando, quindi in modo indiretto, ma lo potete ricavare, questo ricordate è un valore esadecimale, lo potete trasformare in decimale, dividere per 256, e trovate il numero corrispondente, e va bene, andiamo avanti a vedere, abbiamo le statistiche, quanto è stato consumato, se è stato bravo o ho consumato poco, qui potete vedere come si impostano APN o non APN, dei due slot, si può lasciare anche in manuale, si può abilitare o meno gli SMS, anche se sono sincero, non li ho utilizzati, impostazione dei dati, statistiche, dati mensili, va bene, questo è per tenere traccia dei dati, ed eventualmente mettere un limite, se avete una sim con i dati non limitati, con i dati non illimitati, potete mandarvi un SMS, quando si arriva a un certo utilizzo dei dati, ok, quindi potete utilizzarlo, è possibile che la parte SMS sia solo per quello, non lo so, non l'ho usato, sinceramente, comandati, qua potete mandare i comandi AT direttamente al modem, infatti è da qui che ho ricavato il modello, ma potete anche avere informazioni dirette, questi sono i comandi AT classici, li trovate tutti, quindi è da qua che supporta anche il cell lock, cell lock che però ho provato, a volte non gradisce molto, quindi ho usato, l'ho provato a usarlo, ma non ci contate troppo, perché faceva delle prove con Win3, volevo fare il lock su una cella che era relativa a una banda 3, e non c'è stato verso di farlo, lo faceva, dopo un po' lo smollava, si sbloccava in automatico, e andava tutto in automatico, invece facendolo su questa cella qui, specifica, lo teneva, non so, quindi sì e no, ok, andiamo avanti, a vedere un po' i dettagli, qui vedrete tutti i dettagli dei dispositivi collegati, questo l'abbiamo visto, sms, ah ok, questa parte proprio, ho detto, non l'ho utilizzata, va bene, potete quindi, mandare e ricevere sms, la parte di LAN, impostazioni, classiche, andiamo avanti, rete senza fili, 2,4 e 5 GHz, vediamo un po' i dettagli che ci dà, ok, isola utenti, vabbè, simpatico, in modo tale che, i client sulla stessa rete non si possano, siano isolati completamente, l'impostazione sul server di HCP, e va bene, va bene, diciamo, abbastanza classico, questo è il firmware attuale, ho provato, sono andato a vedere anche sul sito, non c'è, non ci sono altre versioni al momento, quindi questa è l'ultima, che è anche abbastanza recente, poi, nell'installazione rapida, c'è tutto un wizard, che vi porta in fondo, configurando router, ha funzionato senza problemi, questa parte qui, l'abbiamo già vista, allora, questa, vediamo se vi collegate, probabilmente sì, in wifi, ma lasciamo perdere, come client intendo, senza fili, queste sono le stesse impostazioni, viste dall'altra parte, a volte, confondo un po' questo tipo di impostazione, perché porta poi, sempre alle stesse sezioni, anche di qua, nelle impostazioni avanzate, abbiamo di tutto, e di più, è veramente molto, molto completo, vedete, potete, switchare, una delle porte, da LAN a WAN, e quindi, puoi collegare, che ne so, il vostro provider, cablato, e farlo funzionare, solo come router di backup, la parte di LAN, l'abbiamo già vista, andiamo un po' rapidi, rete ospite, il wifi, server DHCP, l'abbiamo visto anche lui, dall'altra parte, i pv6, faccio vedere, le possibilità, andiamo un po' veloci, qas, dovete prima abilitarlo, impostare le due velocità, e poi potete, assegnare, a una macchina, delle velocità, molto semplice, però va bene, ok, DNS personalizzato, questo è abbastanza simpatico, praticamente fa, può fare un redirect, di tutte le connessioni, che arrivano, da dentro la macchina, sulla porta 53, UDPTCP, e se la ributta, sul suo server interno, può andar bene, può prevenire, qualche problema, con malware, e compagnia bella, quindi, non male, stradamenti vari, port forward, classici, vedete un po', come si può fare, tra l'altro, simpatico che lo potete fare, anche su vpn, quindi se avete una vpn, che vi dà l'ip pubblico, potreste anche, indirizzarlo direttamente, poi, a una vostra macchina interna, questo non è male, mi son perso, dove eravamo, port forward, attivazione porta, e vabbè, diciamo che il router, è molto completo, per quanto riguarda, queste funzioni, TMZ, ecco, questo l'ho apprezzato molto, nel senso, ha rilevato, che siamo natati, infatti sto usando, un'ip natata di Win3, e dice, si, stai attento, perché comunque, tu ti abiliti e tutto, ma comunque, non sei raggiungibile, occhio, va bene, rilevamento linea, per capire, se è più o meno online, va bene, TTL, per fare lo spoofing, per cambiare il valore, di TTL, a volte questo serve, vi dicevo, quando avete una sim, che non vi permette, di navigare, se inserite un router, ma se dentro, il cellulare funziona, siccome questo router, di categoria bassa, è probabile, che venga preso, con una sim, di queste categorie basse, quindi, la trovo molto interessante, perché vi permette, insomma, di navigare, che poi, vorrei capire, all'ISP, cosa ne frega a lui, se io navigo, con il router, o il telefonino, sarà infatti meno, mi dai 30 giga, quelli sono, allora, andiamo avanti, wake on LAN, riattiva su LAN, le traduzioni sono bellissime, ma dopo, c'è una fantastica, allora, va bene, qui lasciamo lo staccato, l'upnp, firewall, molto semplice, come impostazioni, niente di che, ma va bene, filtro sul mac address, un whitelist, un blacklist, filtro IP, ok, andiamo avanti, via, 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 filtro dominio, DNS, va bene, va bene, togliamolo, ok, associazione IP max, se volete fare, un'associazione tra il MAC address, e l'IP, riservare l'IP, a determinate macchine, ok, WPS, vabbò, cosa che io non uso mai, il wifi lo uso, ma il WPS è una di quelle funzioni che proprio, trovo più scomoda che la password, comunque fa niente, pianificazione del wifi, va bene, potete pianificare, come quando accenderlo, spegnerlo, se non lo volete tenere acceso sempre, che ne so, magari vicino al letto, o qualcosa del genere, e di notte volete spegnerlo, ci può stare, ok, ora del sistema, non ci interessa, firma, l'abbiamo già visto, qua potete fare il backup delle impostazioni, l'amministrazione, se volete fare anche a dare moto o meno, va bene, amministrazione, account amministratore, vabbè, questa è la lingua che sarà a caso di cambiare, riavvio temporizzato, questo è interessante, diciamo che un router stabile non ne avrebbe necessità, però non si può mai sapere, quindi potrebbe essere anche interessante, che ogni tanto il router, si fa un bel riavvio, che male non gli fa, il TR069, in questo caso proprio non ci interessa, un ripristino, e un riavvio del router, mi manca la parte di VPN, che me la sono persa, probabilmente mi è scappata, mi è scappata, dov'è? probabilmente in opzioni generali, sì, e vi faccio vedere, a questo punto, come fare la connessione con NordVPN, sapete che, sono un affiliato anche a NordVPN, quindi vi mostro, come si configura, perché questo è uno dei pochi, perché non ce ne sono tanti di router, che si possono configurare con le varie VPN, quindi, questo lo permette, ve lo mostro dall'inizio alla fine, perché è molto semplice, ok? Quindi la prima cosa da fare, dovete andare sul sito di NordVPN, andare sul sito di NordVPN, entrate con il vostro account, una volta dentro, dovete fare la configurazione manuale, quindi andate qui, su NordVPN, adesso ovviamente io non sono sotto VPN, andate qua, edite configura NordVPN manualmente, cliccate qua, vi verrà inviata una mail contenente il codice, che io sto leggendo da telefono ora, che ho sbagliato ovviamente, ah sì, ho messo dentro quello di prima, ok, se ce la faccio, ok, sono dentro, a questo punto, io mi trovo, il nome utente e la password qui, quindi che cosa faccio, innanzitutto mi serve un file, lo trovate a questo indirizzo, un file di configurazione, mi raccomando utilizzate un file UDP, perché è meglio, prendete uno dei server che vi interessa, perché se usate NordVPN, già saprete con quale vi troverete meglio, potete anche, che ne so, prima testarlo da client, da Windows, Mac, quello che volete, dopodiché vedete quale è il numero, poi decidete quale dei server utilizzare, ok, supponiamo che noi utilizziamo uno in Italia, supponiamo questo, fate download UDP, scaricate il file, a questo punto, voi andate, sul router, fate abilita, gli dite, client, open VPN, tra l'altro, scusate, guardate questo, schiavo di livello 0, guardate le opzioni, sono tante, le opzioni VPN di questo router, quindi ottimo, ma lo schiavo di livello 0 è fantastico, che sarebbe il 0 tier, che sarebbe il 0 tier, client, e server, comunque, allora, continuiamo, facciamo così, portiamo tutti i dispositivi in VPN, lo lasciamo così, caricate il vostro file, che avete scaricato, ok, il nome utente, lo prendete da, qui, copiate, la vostra password, non è una password tipo pipo, quindi non provate a mettere dentro le mie credenziali, perché non vanno, e a questo punto siamo connessi, adesso, verifichiamo se siamo veramente connessi, andiamo in home, e, in questo momento, non ci dà più nessun tipo di alert, che non siamo collegati, vediamo il mio IP, come vedete, è un IP, non della rete Win3, quindi vuol dire che, in questo momento, noi siamo già protetti, dalla VPN, e abbiamo, tutto l'anonimato, che, eventualmente, ci serve, ma fondamentalmente, è anche per proteggersi, dall'ISP, in modo tale, che non sappia, che cosa si sta facendo, ma non perché si debba fare, chissà che cosa, ma perché per principio, lo trovo, poco corretto, che possano vedere, gli indirizzi, i siti, che si visitano, quindi, in questo modo, questo router, è configurato, sotto VPN, e, a questo punto siamo a posto, e siamo protetti, quindi, molto, molto, veloce, la configurazione, avete visto, semplicissimo, andiamo avanti, adesso proviamo a staccarlo, fate, salva e applica, adesso verifichiamo, effettivamente, che l'IP sia cambiato, perché, a questo punto, avremo, e adesso fa un po' di fatica, è normale, il router, è sempre collegato, ma era su, quel sito lì, quindi, andrebbe chiuso, e riaperto Safari, verifichiamo, che effettivamente, stia, andando, e infatti, sta andando, ok, quindi, non ci sono problemi, al momento, tra un po', questo, si riprenderà, e deciderà, andare, ok, infatti, adesso abbiamo di nuovo, il nostro, ip, di win3, quindi, andiamo, a parlare, un momento, di, comandi, at, vi mostro, qualche comando, at, comodo, lo mettiamo qui, quindi, abbiamo, at, vi mostra, il vostro modem, at, più, qca info, ci mostra, quali sono, le bande, che sta aggregando, in questo momento, questa è la banda, principale, questo, le rfcn, questo qua, 3350, questa è la banda, sette, lo sapete, e questo, è, l'identificativo, del, della nostra, c'è la fisica, stessa cosa qui, 1650, l'erfcn, in banda 3, di win3, e 65, il, pci, questo ci può tornare comodo, nel caso, volessimo provare, a fare, sell lock, però, io, onestamente, vi dico, anche no, nel senso, io, non ho trovato, nessun, particolare vantaggio, a farlo, ho provato a farlo, con la cella, che era, relativa alla banda 3, e non mi è andato, adesso vai a capire perché, tra l'altro, dopo un po' che non si collegava, ha deciso di togliere, il lock in automatico, quando vi da questa risposta, vuol dire che il lock, è staccato, ok, perché vi dice, che è lockato, con, zero celle, ok, qua gli chiedete, sono lockato, e lui vi dice, no, zero celle, qua gli dite, fammi un lock, ad una cella, con, ERFCN, 3350, e, physical cell ID, 116, che è relativo, al mio BTS, attenzione, quindi voi, prima, fate un QCA info, per vedere, quali sono, in questo momento, lui mi ha risposto, sì, ok, ti ho fatto il lock, per vedere, se abbiamo fatto il lock, veramente, noi gli mandiamo, questo comando, infatti, lui ci dice, sì, sono lockato, a una cella, con questi dettagli, allora, la rete, adesso in questo momento, salta, si riprende, dovrebbe ritornare su, in questo caso, comunque, sulla banda 3, mi ha dato un sacco di problemi, non tanto la banda 3, mi corrego, la cella relativa, alla banda 3, mi ha dato un sacco di problemi, quindi, ecco, diciamo che, lasciare perdere, il sell lock, su questo router, non, non mi ha convinto, proprio, abbiamo, ripristino del modem, se fate qualche pasticcio, ve lo riporta, pulito, quindi, ottimo, 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 e niente, questo è quanto, questo è il router, a questo punto, cosa ci resta da dire, sicuramente, un bel, un bel angolo del tamarro, così, vi dico subito, che, tanto tamarro non è, ma non, perché, il router, categoria 6, più di tanto non vada, ma è perché, mi ha dato delle prestazioni, veramente, altalenanti, nel senso, che, dentro casa, mi sembrava si comportasse, anche benino, dove essere, cioè, in alcuni momenti, male, tipo adesso, qua, è dentro casa, con pareti spesse, anche se, la parte di upload, non era male, devo dire, ma, non, mi è piaciuto abbastanza, poi, c'erano anche dei momenti, in cui, Ale partiva, e, faceva dei risultati, sicuramente più interessanti, tipo, questo, e questo, a quel punto, ho detto, perfetto, ho quattro sma, lo porto sul tetto, e farà, dei numeri, sicuramente, più interessanti, in realtà, non è cambiato più di tanto, perché, mi ha fatto, dei risultati, così, cioè, poco più, che, di quelli, che ho fatto in casa, a volte, addirittura, meno, no, attenzione, questo è in, con team, con team, non ha brillato, particolarmente, qui, non ha brillato, proprio, con win3, qui, neanche, più di tanto, cioè, ecco, qua, invece, è una volta, è una di quelle volte, che è andato bene, insomma, non lo trovo, molto costante, nelle prestazioni, in generale, ci sono delle volte, che vi fa 50 megabit, delle volte, che ne fa 160, sul tetto, non so, a che cosa sia dovuto, se è dovuto, al fatto, che il segnale, comunque, è piuttosto forte, perché, adesso, lo stringo, poi lo faccio vedere, comunque, ho delle antenne, che sparano, ho le casere, che sparano, direttamente, sulla BTS, a 800 metri, quindi, il segnale, ce n'è, in abbondanza, ma non ha brillato, non ha brillato, per niente, però, devo dire, che è uno, di quei router, che io ho utilizzato, per circa, un paio di settimane, l'ho attaccato, non ho avuto problemi, non mi sono mai, trovato disconnesso, pur avendo, Win 3, che ha le disconnessioni, ogni 4 ore, ma è mezzo problema, in questo senso, quindi, per me, già questo, me lo fa promuovere, però, sulle prestazioni, un po' altalenate, sicuramente, poi, il fatto, che abbia 4 SMI, uno dice, va bene, perfetto, è il router, perfetto da comprare, perché poi, io l'attacco a intene esterne, però, quando l'ho fatto, si è fermato lì, subito, insomma, quasi quasi, è più interessante, tenerlo in casa, come router, per quanto riguarda, le 4 ore, di Win 3, si è comportato, in modo onesto, niente di eccezionale, ma, sicuramente accettabile, quindi, niente da dire, in questo, in questo caso, quindi, andiamo a fare, qualche ultima considerazione, finale, sul prezzo, il prezzo di questo router, senza sconti, così, lo trovo un po' alto, è un router, che, secondo me, avevo comprato, a un prezzo più basso, ogni tanto, gira a prezzi più bassi, quindi, curatelo, è un router, che, secondo me, con una sim, molto economica, per chi non ha grandi pretese, funziona bene, va bene, anche per tutti, gli antifurti, magari, la casa che avete, in montagna, in mare, volete un router, che, comunque, vi dia sempre connessione, magari, con un paio di sim, non vi interessa, la velocità, avete un operatore, di sim, da 4 soldi, veramente, va benissimo, questo router, niente da dire, come router, principale, se fate, un uso intensivo, della rete, no, perché, proprio il fatto, che a volte, a queste prestazioni, altalienanti, non, non mi convince, fino in fondo, non mi convince, fino in fondo, voi guardate, sempre, alla sezione, usato, del mio sito, perché, quando io provo i router, poi, eh, li metto qua, quindi, questo router, finirà qua, se lo vedete qua, scrivetemi, e ci mettiamo d'accordo, ovviamente, sono praticamente nuovi, intonsi, due settimane, spero che, questo video, vi sia, tornato comodo, e, vi saluto tutti, un saluto, ciao!